buongiorno ragazze e bentornate sul mio canale youtube oggi voglio parlarvi di questo prodotto giapponese che mi era stato regalato alla cosmo prof ultimo 2015 nel marzo come vedete è un peeling per il viso è basato su acqua vedete water based peeling facial mask la cosa interessante è che questo peeling e diciamo porta al suo interno e l'estratto di crusca di riso e l'estratto di alga marina dunque sembra presentarsi come un prodotto abbastanza leggero in particolare vi evidenzio che privo di parabeni e di fragranze è privo di ingredienti chimici quindi il peeling è assolutamente naturale ha ovviamente ingredienti attivi assolutamente naturali e non ha mineral oil quindi non ha oli minerali come vi dicevo è un prodotto giapponese questo lo evidenzia la confezione che mi è stata data di questo peeling è da 50 millilitri ed ha una durata dalla data di scadenza di sei mesi diciamo che ora vi parlo un attimino anche di questo marco in particolare che mi ha molto colpito vi dico subito che esiste un distributore in europa finlandese per cui attraverso di loro sicuramente si può avere perché questo prodotto mi ha colpito innanzitutto vi dico che questo prodotto era presentato al cosmo prof nella extraordinary gallery dunque l'extraordinary gallery per chi non lo sapesse è nel cosmo prof quella parte dedicata a tutti i marchi diciamo speciali che si sono distinti per una qualche qualità era infatti come vedete nella hall 19 e questo è il loro marchio diciamo che il profilo della loro compagnia che qui è brevemente descritto parla appunto di questa fondatrice e di sua sorella questo marchio è nato nella città di toyota appunto che è una città del giappone e la fondatrice a kiko yakota che io ho avuto il piacere di conoscere personalmente appunto insieme a sua sorella aveva constatato che diciamo si poteva trarre beneficio dal cominciare a combinare come dire personalmente tutta una serie di principi e principi attivi naturali e che ne traevano effettivamente beneficio ecco su questa base hanno deciso di creare il loro marchio il cui sito internet è questo qui www.v10plus.co.jp che sta appunto per japan giappone ora vi voglio spiegare prima di farvi vedere il prodotto perché si chiamino così ho preparato qui sul mio cellulare il loro sito allora innanzitutto questo è il prodotto ma prima di andare al prodotto voglio mostrarvi un attimino il perché si chiamino si chiamino si chiamino v10 plus allora se andate qui nelle frequently asked question e quindi questa parte del sito vi esce innanzitutto il perché essi si chiamino v10 plus allora la lettera p come come si vede sta per varietà quindi per varietà il numero 10 sta a ricordare i 10 concetti che sono dietro a questa varietà a questa varietà dunque numero 1 i prodotti v10 plus non hanno parabeni non hanno colori artificiali non hanno olio minerali non hanno fragranze e chimiche sono tutti basati su acqua vedete water based e esistono dei sieri e diciamo combinabili per ben 10 diversi e problemi della pelle sono dermatologicamente testati già promettono in 10 giorni visibili risultati ed inoltre i famosi 10 sieri vengono venduti in bottigliene coloratissime per cui c'è anche una sorta di color therapy loro la chiamano attraverso l'utilizzo di questi sieri ed il marchio è giapponese ed infine plus sta per lo illumino plus sta perché potete diciamo aggiungere i sieri a quella che in verità è già la vostra skin care quindi è un plus quello che vi regalate con questo marchio piuttosto che diciamo una cosa in meno come vi dicevo prima i sieri vengono venduti eccoli qua ve le mostro in 10 bottiglini sono tutte ad esempio vitamine collagene acidogliano ronico vendute in bottigliene coloratissime per cui ciascuna di esse ha un ruolo ma torniamo appunto a questo prodotto in merito a questo prodotto vi voglio innanzitutto mostrare che cosa si può dire del prodotto appartiene alla linea della special care che trovate appunto sul sul sito eccolo qua special care e si dice che è un peeling molto leggero che contiene appunto estratti di riso e di alga marina e non non ha nessun scrub di tipo duro all'interno e rimuove le cellule morte diciamo rivelando quella che la naturale il naturale la naturale brillantezza della nostra pelle diciamo suggeriscono di utilizzarlo prendendo una parte appropriata del prodotto ora vi farò vedere quanto e lasciarla agire sulla pelle del viso per 5 secondi dopodiché massaggiare con un massaggio che io vi linkerò qui qui su in alto vi consiglio di vedere il link che io vi metto qui in modo che possiate vedere come effettuare il massaggio del viso e vedrete che le cellule morte del vostro viso si distaccheranno creando dei piccoli fiocchi la consistenza del prodotto è questa ve la faccio vedere eccola qua essendo water based è una sorta di gel è molto leggero molto fresco sulla pelle io l'ho già usato tre volte e devo dire che l'effetto primario che ho appunto potuto constatare è stato proprio quello di come dire vedere la mia pelle come più illuminata lo applico sul retro della mano in questo momento ovviamente la pelle deve essere asciutta e pulita e in questo caso il movimento circolare che io farò è questo dopodiché voi non so se lo vedete ma ora cercherò di mostrarvelo si staccano non so se si vedono tutti questi piccoli flake fiocchi di cellule morte che si vanno staccando ovviamente la mia mano è pulita non era sporca non sono abbronzata perché io quest'estate non sono andata assolutamente al mare per cui questa non è abbronzatura vedete lo stesso accade sul viso con il massaggio che ripeto vi linko qui sotto perché va effettuato correttamente è un prodotto ripeto che a me è sembrato molto valido se il Cosmoprof lo ha selezionato nella galleria Exerdony Gallery ci sarà sicuramente un motivo ed inoltre ripeto quello che mi ha particolarmente colpito è che questo sia un marchio fatto da donne per le donne quindi assolutamente entusiasmante per me poterne parlare ho conosciuto personalmente il CEO di questa azienda una donna che troverete anche fra l'altro su internet più volte e la cui bellezza o la cui pelle parla secondo me da sé ragazze se avete domande su questo prodotto fatemi sapere io continuerò ad utilizzarlo a presto ciao lasciate un mi piace mi raccomando se il video vi è piaciuto ciao ciao